Rieccoci ragazzi, bentornati a tutti sul canale di Nickwing Game Andiamo avanti in Sniper Ghost Warrior Contract 2 Nello scorso episodio, che è stato il primo episodio, abbiamo visto un po' di... Abbiamo fatto la fase iniziale del tutorial e poi abbiamo eliminato il nostro primo bersaglio Adesso siamo sempre nella prima missione dove dobbiamo eliminare ancora Ora questo qui, Ronald Payne e poi dobbiamo eliminare il colonnello Novikov E poi dobbiamo sabotare anche le antenne, ok, dobbiamo andare da questo lato, qui Va bene, andiamo avanti con cautela Possibilmente senza farci notare Ok, possiamo lanciare le pietre Allora, c'è gente C'è gente In quanti sono? Allora, due Perfetto Ricordiamoci che possiamo lanciare I sassi Qualcuno sta fischiattando Ah, eccolo Guarda Ma sono due Cazzo Allora, facciamo una cosa Proviamo a fare fuori a questo Grande, è così Se riusciamo ad aggirarli Anche meglio Cazzo Non dirmi che entrerà qui sto a bastardo Vai, vai, vai Grande Cazzo, me lo... No, che bastardo Niente ragazzi E' una tutta puttane Morti Fanculo Ma son due Non dirmi che See? You get it. Why doesn't she get it? No. Why not? She's my sister. So? No. I'm not introducing you. She might like me. I don't like her. Ci vuole pazienza. Let's go. Altre sentinelle? Cazzo. il diciamo più di una ma a rischio andrà male andrà male infatti infatti mi ha visto porca miseria non mi ha detto by fr inglese fr inglese tre vent tent inclusive Abbiamo ozzi a tutti, preparati per attraverso! Voi! 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 Base, abbiamo una explosione nel settore 4. Prego di ordine, ok? Voi! Voi! Ciuccia! Pronto! Cazzo, di questo passo non la finiamo più, eh! Dove devo andare? Minca, sono tutte allarmate lì! Scendi! Voi! 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 Sì! Voi! e lui è andato 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 E' andato e lui è andato e lui è andato e lui è andato forse è lui eh forse l'ho peccato ragazzi lo stronzo era nascosto bene vaffanculo era veramente nascosto bene non riuscivo a trovarlo eh mezz'ora qui ok eliminato bene andiamocene adesso dobbiamo eliminare questo qui Novikov perfetto well done proceed to the next one tutti check testa testa Sono leggermente girato di coglioni Quindi non voglio parlare a tempo Sono leggermente girato Contrullo, è Raven Do you read me? Loud and clear, Raven Sono quasi a l'O.P. per la comunicazione Facility Sono inside one of the buildings I need to get him out All that comms equipment Will draw a lot of power Plenty of possible targets I might do it Or at least get him to look out of a window Roger, good luck Raven, you need to disable both antennas We're still picking up data streams from the facility Novacarv can't work without power Roger, I'll see what I can do Allora Com'è quest'altro tipo? Ha il cappellino Egliocchi, allez Raven, you can further sabotage Rashida's supply chain If you disable this comms facility Acknowledged There are multiple power transformers Left side, mark 1-1 and 1-2 And right side, mark 2-1 and 2-2 You have visual Roger, control Looks like they're hooked into the satellites No power, no signal Eh, sì Per poter disattivare queste cose Però mi servono i proiettili impulsi E il problema che io non ne ho Non ne ho ragazzi Ho anche controllato E non ne ho a disposizione Sicuramente mi sono dimenticato di equipaggiarli Prima di avviare la missione Porca di quella miseria Quindi un Kaiser Non ce li ho proprio Potrebbe essere un problema Control, ho runo recon E non ho visuale sui primari Si è confermato on site, Raven Siamo attraverso i segnali da quella locazione S***** Si è dentro, per sicuramente C'è il motivo che hai bisogno di arrivare fuori La questione è Come? Lascerò questo a te Devo attirarlo fuori Il tipo Eh beh L'unico modo è allarmare tutti Beh a questo punto Facciamo una bella cosa ragazzi Eh Sir We have a weird reading It looks like voltage fluctuation One of the antennas It looks like I disabled the first antenna Good work This should get Novakov's attention Keep an eye out Ok Forse Così lo attiriamo We have an audio signal Bad news One of the antennas Is completely powered down Can't you people Think sorry a thing It's been broken So many times Yes We're not sure Whether this is good One of the antennas Voltage is unstable I don't think it's going to be Ok No Preso Preso We've intercepted that conversation I know that antenna went down This has to be a big issue We can't afford to have Any issues at this point Fix it Ma dove cazzo Allora si è infognato Questo qui adesso Shit Lost visual on the primary Someone close the shutters They must be powered somewhere I don't have any blueprints You'll need to find the source On it Wait Ok Ok Mi devo spostare Mi devo spostare Sì Morto Via Abbiamo fatto tutto, abbiamo sabotato anche le antenne, perfetto Perfetto, grande è così Scheda di equipaggiamento, nella tua prossima missione sarai molto più vicino al nemico Quindi ti servirà un fissile leggero e silenzioso Vai alla scheda di equipaggiamento, allora leggero e silenzioso I fucile da cecchino leggeri sono più silenziosi ma meno lettali di quelli pesanti Il sistema di statistica ti aiuterà a confrontarli grazie alle informazioni utili fornite dalle descrizioni Selezioni fucile leggeri Questo I fucile appena acquistati vengono forniti senza accessori All'eccezione del mirino Aggiungiamo un silenzio al fucile per renderlo ancora più silenzioso Scheda personalizzazione, sensato è ok Perfetto Vedete, potete dire impulsi, dobbiamo equipaggiarlo Ok Penso che vada bene così Cos'è questo? Ottica, sblocca il leggerimento Sì, vai Caricatore doppio, sì Sì, questo lo sblocchiamo per la limitizzazione Possiamo lasciare così, sì Abbiamo questo, Monte Kumar Andiamo Allora, elimina Lars Helmsdorf Storm Elimina il disattivaio di Jemmer Che sabotta l'antena principale Danneggia il sistema di raffreddamento Distruggi l'antena centrale caricando un virus Ok, possiamo iniziare Vai, tiratore ha scelto, sempre Raven Received, sent sitrep I'm on location A couple of clicks out from the citadel Hellstrom's data center is impressive But financed with stolen millions And focused on acquiring more Your last message was unclear Transmission is poor It's the satellite jammers Comms will be weak till you disable all three First target is ahead Roger, stand by Dunque Questi sono gli obiettivi da raggiungere Questi sono i punti da raggiungere Gli obiettivi sono questi qui Ce ne abbiamo parecchie Dobbiamo eliminare solo una persona Poi dobbiamo disattivare, sabotare, danneggiare E distruggere Una miglia di dirro Ok Per il momento possiamo fermarci qui Con questo episodio Di Sniper Ghost Warrior Contract 2 E Come sempre ragazzi Fatemi sapere la vostra Soltemi sapere se lo state giocando Se avete mai giocato Cos'è questa? Una carcassa E noi ragazzi ci vediamo alla prossima Ciao a tutti Ciao a tutti